Interveniamo nelle scuole per favorire l'incontro tra mondo del lavoro e mondo della scuola, per consentire alle nostre imprese di conoscere i propri futuri collaboratori e per consentire alle scuole di acquisire delle competenze tecnico-professionali che magari da soli non riuscirebbero ad ottenere. Vogliamo diffondere una cultura del lavoro che tenga in considerazione anche il mondo delle piccole e medie imprese, perché comunque è un mondo dove si sposano benissimo tradizioni e innovazione, dove la piccola dimensione garantisce una crescita professionale e personale più diretta ed è per questo che abbiamo cominciato a coinvolgere ordini di scuola sempre più bassi, per cui prima ci rivolgevamo semplicemente alle scuole secondarie di secondo grado perché erano più vicine all'ingresso al mondo del lavoro, adesso interveniamo anche in alcuni casi nelle primarie. È un percorso in cui le classi sono invitate a restituire un racconto della loro esperienza con un'impresa, quindi avranno l'opportunità di incontrare un imprenditore, un'imprenditrice associata a CNA, prima in classe che racconterà un po' chi è, cosa fa, come ha costruito il suo progetto imprenditoriale e poi avranno l'opportunità di andare in azienda per toccare con mano e vedere come funziona un'attività di impresa. Hanno aderito 24 classi quest'anno di 7 istituti, direi 5 tra 5 superiori e 2 scuole medie, su tutto il territorio provinciale per un totale di 505 ragazzi. Le imprese coinvolte invece sono una quindicina. CNA Formazione Medieromagna interviene in maniera istituzionalizzata durante l'anno scolastico in collaborazione con la nostra area lavoro interna e il settore formativo, assieme a CNA Provinciale di Ferrara, per fornire degli strumenti utili alla vita e al percorso occupazionale dei ragazzi, fornendo il kit per costruire il curriculum, per far vedere come ci si presenta ad un datore di lavoro, per far incontrare produttori del settore e fornire tutte quelle indicazioni utili al proprio bagaglio occupazionale. D'altro canto ci attiviamo, siamo molto attivi nel promuovere il linguaggio del cinema e nell'audiovisivo all'interno delle scuole del territorio, in particolare promuovendo dei progetti che sono stati promossi e candideremo nuovamente sui bandi del Ministero, in collaborazione con gli istituti del territorio, con Alda Costa, con la Matteo Maria Boiardo, con l'Istituto Leotti e il Liceo Carducci e, notizia di qualche giorno fa, l'Istituto Comprensivo Alda Costa, insieme a noi, ha vinto un bando, posizionandosi secondo su 13 in Italia, su un progetto dell'audiovisivo dal titolo Museo Obitato, in collaborazione col Comune di Ferrara e Fondazione Ferrara Arte, per l'animazione dei quadri di Achille Funi, ospitati nella bellissima mostra attualmente allestita presso il Palazzo dei Diamanti.